Onicea è una scultura luminosa, di forte impatto visivo, sobria, contemporanea, che si può inserire nei diversi ambienti moderni o classici. Siamo riusciti a realizzare e a valorizzare la pietra in tutta la sua trasparenza, che fa sì che possiamo leggere le venature interne. I bordi della lastra sono lasciati grezzi, non molati, affinché non venissero meno la poesia della lavorazione artigianale e la matericità della roccia viva. Ogni lastra dionice è poi accoppiata a un vetro estracchiaro, che conferisce la giusta resistenza meccanica senza intaccare la texture e le tonalità calde. Le lastre di questo marmo, pietra, alabastro, sono collegate tra di loro da un nastro di metallo dorato che le unisce e le fa diventare un elemento unico, quasi una corona, quasi una navicella che sta nello spazio. Onice, per le sue caratteristiche formali legate al rettangolo e al quadrato, si presta a delle combinazioni modulari molto importanti, di forte impatto emotivo ed emozionale. Discover quality designs in exclusive international brands at Home65.